Io ho dato sette Ok, Seba? Io sei in mezzo Ale? Sette più Cos'è? Hai dato una situazione Devo cercare di stare tranquillo Forse c'è pure il zerbino Non so se è stato inserito o meno Perché era Era un possibile partente Non so se è un esubero che poi rimane fuori O viene integrato in rosa Non ho idea sinceramente Io ho dato sette comunque Come voto Più che altro perché Secondo me ha alzato notevolmente Il Napoli ha alzato notevolmente il livello Tra difesa e centrocampo Difesa prendendo Buongiorno Che forse Insomma uno dei migliori Anzi senza forse Uno dei migliori centrali italiani Il migliore che potevi prende E a centrocampo con gli scozzesi Insomma Non mi sembra Si sia alzato di poco il livello Considerando anche le uscite NRS peraltro è un altro colpo interessante Che potrebbe pure diventare titolare Ma anche Cioè al momento da riserva è un lusso Comunque ti ha già portato Delle cose importantissime Poi nel lungo periodo penso che possa diventare titolare Ma vedremo Non ho dato più di 7 Mi sono fermato al 7 Come voto Perché Per una serie di motivi Secondo me La gestione della punta in generale Tra entrate e uscita Non è stata Perfetta La gestione del caso Seaman Che negli ultimi giorni È stata fatta passare Come una masterclass Di Adl Non sono esattamente d'accordo Comunque un giocatore che Ti valeva più di 100 milioni E potevi venderlo a più di 100 milioni E tra varie operazioni Più chiaramente Il contributo suo Degli errori di Ozyman Che chiaramente Insomma Non è esente da critica Ma una grande società Deve saper gestire questi casi qui Ti ha portato a darlo Impressi dal Galatasaray E devi sperare Che faccia bene in Turchia Così forse E poi lo vendi a 80 milioni E questo secondo me Insomma È un problema E poi Lukaku Secondo me è un problema Non tanto dal punto di vista calcistico Perché a me non dispiace Ne abbiamo parlato più volte Anzi Poi per conto è perfetto Eccetera eccetera Comunque l'anno scorso Ha fatto 21 gol Cioè per me È eccessivamente criticato Lukaku calcisticamente Però dal punto di vista economico Comunque ha investito Lasciando perdere il discorso bonus Percentuali di vendita Eccetera Però ha investito 30 milioni Dando un triennale Da 12 milioni lordi A un giocatore Che ti costa quindi Complessivamente Tra ammortamento E stipendio 22 milioni di anni Che sono tantissimi Per un giocatore Basti pensare che Cioè costa più di Non lo so Lautaro Costa più di Quara Di Leao Di tutti i migliori giocatori Della Serie A E l'unico che Credo che L'unico Veramente L'unico che costa più di Annualmente A bilancio Costa più di 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 Lukaku Credo sia Vlaovic Perché vabbè Lì la Juve Ha una gestione folle Ma ne parleremo Cioè Quel contratto Che gli fecero Perché Vlaovic Costa quasi 40 milioni anni Alla Juve Tra ammortamento Degli 80 E passa milioni Che sono stati investiti Più Più Lo stipendio Che è altissimo E quindi vabbè Però quelli sono Problemi della Juve Per il Napoli Comunque Considerando che sia Che peraltro è una stagione In cui non hai le coppe Quindi hai introiti in meno È un po' un all-in Spendere 22 milioni Per il centro avanti Soprattutto se Un Un 31enne Credo abbia 31 anni Lukaku E quindi Non è neanche un giocatore Monetizzabile in futuro È un investimento pesante È un investimento Che poi Insieme agli altri Pretende Dei risultati Per cui L'ho detto spesso E secondo me Il Napoli Ha Cioè È sempre brutto dirlo così Perché poi sembra Una provocazione Però Per quelli che sono stati Gli investimenti A livello della Rosa Il fatto che non abbia le coppe Il fatto che abbia preso Conte Per me È un po' È obbligatorio Per il Napoli Andare in Champions Quest'anno Qualificarsi per la Champions Arrivare tra le prime quattro Al massimo tra le prime cinque Se c'è il discorso Dell'allungamento Delle cose Ma andare in Champions È fondamentale Quest'anno Secondo me sì Secondo me Politano è destinato Cioè non lo so Perché poi bisogna capire Conte Bisogna capire Conte Però Dipende in gran parte Da Matteo Politano Questa cosa Ecco Possiamo dire questa cosa qua Eh però Non lo so L'impatto del brasiliano Non è stato male Eh sì Ma Neres è un giocatore discontinuo Secondo me Politano un po' di spazi Li troverà Durante No spazio l'avrà sempre Certo Poi Neres è un giocatore È un giocatore Che anche a gara in corso Cioè per le caratteristiche Che ha Può essere Ancora più impattante Magari poi Un discorso in realtà Che si fa in generale Per i giocatori Che magari sono Così esplosivi Sono Cioè danno Quella Così tanta imprevedibilità E quando poi Nelle squadre si allungano Nella ripresa Sono un po' più stanche Però è chiaro Che poi il valore assoluto Di Neres È superiore a quello Di Politano Quindi È anche giusto Che poi parta A prescindere avanti Nelle girarchie Questo Rispetto a Rispetto appunto A Politano Io su Scusa Gioca Gioca ne pensi Sono tutti insieme Si potrebbero giocare Secondo me Secondo me no Con Conte Secondo me Secondo me Solo a partita in corso E a quel punto Sarebbe Una murignata Da parte di Conte No ai tempi Sì Gioca di offensivi In campo Contemporaneamente Se c'è bisogno Di fatto Di recuperare Un risultato Che è compromesso Io dal puntista tattico Del Napoli Sono curioso Di capire appunto Conte Come si Come si muoverà Che scelte farà Perché da un lato Al centrocampo È vero che poi è rimasto A Cifolo Ruscio Che di fatto è Sarà un jolly In più Vediamo poi Quanto spazio avrà Dalla panchina Soprattutto Come alternativa I centrocampisti Sono perfettamente Accoppiati Quindi questo Mi fa pensare Che in realtà Conte voglia proseguire Con il 3-4-3 Però io credo Che per un discorso Di equilibrio Non so Almeno nelle partite Magari in cui Il Napoli Può lasciare il pallone Ai avversari Che magari sono più forti Quindi parlo Non so Riferisco a Inter Juve Insomma queste partite Qui di cartello Secondo me Il Napoli Potrebbe Potrebbe anche Non sarebbe così Campatenare La scelta Di switchare Magari di passare Un 3-5-2 Con McTominay E Angissara Contemporaneamente In campo E Kvara E Lukaku Poi in campo aperto Quindi con una squadra Che magari abbassa Un po' il baricentro E riparte Appunto Affidandosi al Giorgiano E al Berga Con Neres A quel punto Che può entrare Può accendersi E può essere Una bella arma Partita in corso Il discorso È che Napoli gioca Solo una partita A settimana Effettivamente Il 3-5-2 Stabilmente Non lo vedo Non la vedo La soluzione percorribile Perché tu Non avresti alternative In panchina In mezzo al campo A parte Foloruncio Cioè Avresti difficoltà Poi secondo me A percorrere Quella strada lì Stabilmente Però io sono curioso Di capire Se in alcune partite Con te Alla fine Farà questa scelta Perché Non lo so Poi per carità La squadra Probabilmente deve ancora Registarsi A livello tattico Però non so Come la pensate Il 3-4-3 Probabilmente Forse Espone un po' Troppo In Napoli Cioè anche Con McTominay Al posto di Angissà Tu rischi di perderlo Un po' Come invasore Perché se Tu lo fai giocare Insomma Vicino allo Bocca Diventa quasi L'unico centrocampista A cui tu devi chiedere Compiti Di sostanze Quindi Se poi Lo porti Anche ad invadere L'area costantemente Sono rischi Di soffrire Un po' Troppo A livello difensivo Anche se poi Buongiorno Non è Rachmani Si è rinforzato Chiaramente dietro Non so voi come la vedete Però io sono curioso Di capire Conte Come si Come Deciderà di procedere Io condivido O se L'idea è quella Di prendere McTominay Continuare col 343 E magari Non lo so Alternare McTominay Alissà Non lo so Io condivido Sta cosa Anche perché Secondo me Come modulo Il 343 Ha necessariamente Bisogno a centrocampo Di un regista E di un interditore E c'è poco spazio Per chi si inserisce Fondamentalmente Per come la vedo io Se sei abbastanza fortunato Tu come Antonio Conte Trovi il giocatore Che ti fa entrambe le fasi Cioè che ti fa Il regista E l'interditore E a quel punto McTominay Può fare quello che vuole Potrebbe essere Gilmour Anche se credo Che difensivamente Debba migliorare Ancora un pelo Per diventare Una cosa del genere E Altrimenti È difficile Schierare Secondo me Una mezzala Metacampo Se la schieri Ti offri Scopri un po' Il fianco Soprattutto Adesso Non so io Come il gestore Però chiaramente Immagino che siano Di Lorenzo E Spinazzola I titolari I titolari Sulle fasce E sono due Terzini È vero Nascono come terzini Sono due giocatori Tanto di spinta Sì Credo che Di Lorenzo Farebbe Brucetto tutto l'anno A destra Dovrebbe giocare Forse Mazzocchi Infatti questo è Un altro problema Del mercato Questo è Una Mazzocchi Se c'è Se c'è Se c'è Se c'è un ruolo O se ci sono C'è una posizione In cui con Conte Puoi eventualmente Anche risparmiare Proprio quella Che Conte comunque Ci ha abituato A giocare grandi stagioni Comunque a giocare Grandi campionati Anche avendo dei Semplici gregari Come esterno E tutta fascia Perché poi i compiti Che lui chiede A quei giocatori Sono compiti Basilari Insomma No Quindi giocatori di gamba Con anche diciamo Buona tecnica Anche di un'eccelsa Però sì Il mio set Per esempio Poteva diventare Otto Con una gestione Più saggia Chiaramente Perché comunque Il caso Siment Non può non influire No? In negativo E con Comunque alla fine Forse l'unico L'unico ruolo In cui potevi fare Qualcosa in più Anche se poi Non era magari necessario Non era una priorità Era proprio quello Degli stene Tutta fascia Se parlato di Bimbe Dell'Aintracht Comunque sarebbe stata Una bella aggiunta Quindi un set Che poteva diventare Otto In caso di Fosse arrivato Un esterno A tutta fascia E fosse stato ceduto Cimen Senza Senza Diciamo poi Il teatro Per quanto mi riguarda Il mercato Del Napoli Sarebbe stato appunto Da otto Volendo anche Otto e mezzo Se appunto Oltre all'esterno Destro Che poteva essere Devic Poteva essere Bimbe Comunque Profili Comunque Che Rientrano Nelle caratteristiche Richieste Da ponte Ma soprattutto Se fosse Sciolto Il Nodo Difensore Centrale Mancino Perché Per quanto Appunto Olivera Sia un'opzione Che appunto Come che Ha avuto modo Diciamo Di esprimersi Anche bene In Coppa America In zona Di Difesa A tre Come Braccetto Di sinistra Ecco qua Appunto Il fatto Che comunque Olivera Venga considerato Come una Alternativa Sia alta Al posto Di spinazzola Che eventualmente Come terzo Di difesa Non mi fa impazzire Io avrei puntato Diciamo Ma probabilmente Appunto È più un Crucio Personale Più una Cosa mia Avrei puntato Su un difensore Centrale Mancino Di ruolo Il Diciamo L'ermoso Della situazione Per parlare Appunto Anche di Ottica Mercato Che si era Parlato Appunto Di un interesse Quasi Di una Anche di Un accordo Da quel che Appunto Si diceva Qualche mese Fa E poi Più che altro Appunto Per Non avere Come prima Alternativa O come unica Alternativa Di Di ruolo Di piede sinistro Juan Jesus Che Comunque Non Cioè Se vuoi puntare È vero che si torna Diciamo È una ricorrenza Che si torna Sempre a quel Discorso Ma È un discorso Che resta Se il Napoli Ha fatto tanto Si è mosso Tanto Per Con l'obiettivo Ormai dichiarato Di Puntare A Restare Tra Tra le prime Quattro A Tornare Tra le prime Quattro Non puoi avere Juan Jesus Come prima Alternativa Perché appunto Se Buongiorno Prende Una storta È finita Diciamo Ti ritrovi Con i fantasmi Del debutto A Verona Che ritorna Quindi E in più Per quanto Effettivamente La cessione Di Ozyman Non sia stata Gestita Nel complesso In maniera Ottimale Anzi Al contrario Si è stata Gestita Malissimo Non mi interessa Appunto Chi abbia ragione Chi abbia torto Tra le due parti Io invece Sono dell'idea Che per Tutto quello Che è successo Diciamo L'hai L'hai comunque Risolta La situazione Io sono Per come si era messo Si Sì Non è che fare Due errori Cioè Se fai un errore Poi non provi A risolverlo Sbaglio Due volte Certo Certo Quindi anche solo Per questo Diciamo Il mio voto Non è sette Ma sette più Perché diciamo Comunque sei riuscito Nonostante tutto Poi Lo dirà Con certe Il tempo A parare A sistemare La situazione Più spinosa Che avevi In campo Che avevi Nella rossa Sì Aggiungo una cosa Che può essere Una cosa Che fa abbassare Che mi ha fatto abbassare Un po' il voto Nel mercato La maggior parte Dei colpi Positivi Di cui stiamo parlando Tranne Buongiorno Che è arrivato all'inizio Sono tutti arrivati Negli ultimi giorni Di mercato Questo chiaramente Il ritardo È un fattore Comunque Da considerare Perché è un problema Perché non fanno La preparazione Hanno bisogno Di più tempo Per integrarsi Non li ha Nelle prime partite E questo Questa è una struttura Del calcio italiano Del calcio europeo Diciamo in generale Perché l'ha detto anche Conte Ma l'ha detto Gasperini L'ha detto Di Francesco L'hanno detto molti allenatori E lo diciamo anche noi Che insomma Il mercato dovrebbe essere Chiuso Una volta iniziato Il campionato Si gestiscano loro Se iniziare Dopo il campionato Chiudere prima il mercato Sta di fatto Che il mercato Deve essere Non può esserci Il mercato aperto A campionato iniziato Perché è una follia Però effettivamente Questo impatta Cioè banalmente Se avesse avuto Tutte le disposizioni Già a Verona Non so se Quell'aspetto lì Dell'avere tutti i giocatori Fin dall'inizio Ti avrebbe comunque Portato a perdere 3-0 a Verona Magari Sarebbe andato diversamente Queste sono cose Che impattano Cioè Anche questo Secondo me Conta Nella cosa Chiaramente è tutto Condizionato Dall'Aosimene Che dovevi cedere Eccetera Quello da un po' Bloccato Però effettivamente Però se posso La facendo Osimene È chiaro che nessuno Cioè Nescono Sconfitti Sconfitte Entrambe le parti Nel Galatasaray Però Comunque dal mio Punto di vista Alla fine Secondo me Della Runtis È stato Ha lanciato Un bel segnale Perché Cioè Secondo me È un È una vicenda Che non si allontana Così tanto Da quello che è successo Con Kockmeier All'Atalanta In che senso Napoli sapeva Chiaramente Che L'errore è stato fatto Nel momento in cui Tu dichiari Apertamente Che un giocatore Come Osimene È fuori Totalmente dal progetto Quindi devi cederlo A tutti i costi Fissi Chiaramente C'era chiaramente La clausola Quindi comunque C'è un tetto Un prezzo Chiaramente Che tu vai A definire Però L'entourage E anche I club Che si sono affacciati Chirurgicamente Agli ultimi giorni Speravano Che davano per scontato Che De Laurentiis Che Napoli Poi Diciamo Arrivasse poi Ad abbassare Le pretese Perché Osimene Era un giocatore In uscita Quindi Tutti è obbligato A cederlo Per forza Abbassare l'asticella De Laurentiis Non solo Non ha fatto Diciamo Alla fine Pur di Pur di non cedere Voglio dire Alla fine A quelle che erano Le volontà Quelle che erano Appunto Da parte Delle entourage De Osimene Da parte Dei club Che poi hanno Giocato Chiaramente A ribasso Comunque poi Il mercato In entrata Lo ha finanziato Cioè De Laurentiis Comunque I più di 100 milioni Che il Napoli Sul mercato Ha investito Li ha investiti Senza incassare Effettivamente I 130 Che poi Dovevano arrivare Da Osimene Quindi per me Questo è Un fattore positivo Che va a favore De Laurentiis Poi è chiaro Che da qui A parlare di masterclass Ce ne vuole Perché poi Se non sei riuscito A fare quello che volevi Dentro i tempi stabiliti Comunque hai delle responsabilità Chiaramente anche tu Però per me Non era per niente scontato Che anche Cioè In virtù anche Delle critiche Che vengono fatte Sempre a De Laurentiis Lui alla fine Abbia Comunque Finanziato il mercato Senza avere Senza avere Effettivamente I soldi Che poi Lui si aspettava Di avere Dalla cessione Del nigeriano Quindi per me Questa è una cosa Da sottolineare Perché poi È sempre facile Far l'armare De Laurentiis Però in questo caso Secondo me È giusto sottolineare Un aspetto In cui È stato Secondo me Bravo Perché Non ha Non ha ceduto Ecco Alla fine Se Osimene È andato Al Galatasaray Alla fine Un po' Ci ha rimesso Anche lui A livello economico Assolutamente Perché Per me Vabbè No perché Volevo rispondere Anche qua Al commento Perché NTV dice Il problema Però viene Da quando Lui dice Pubblicamente Il mio tempo È finito Giocare in premier Eccetera È chiaro Che il giocatore Ti si è messo contro Si è comportato In maniera poco Professionale Ma è la base Questo Cioè se siamo tutti D'accordo Penso che Osimene Non si sia comportato Bene con il Napoli Ed è pure un peccato Mi dispiace molto Perché comunque Vuoi o non vuoi Rimane il capocannoniere Del terzo scudetto Cioè è un giocatore Comunque Che rimarrà Nella storia Rimarrà magari Con delle sfumature Più di amarezza Per come è finita Però comunque È un giocatore Che calcisticamente Gli ha dato tanto Detto questo La differenza Secondo me E ritorniamo All'esempio di Copmeners È che anche Copmeners Si era messo di lato Si era messo fuori rosa Con i certificati medici Alla fine però I risultati Sono stati opposti Cioè L'Atalanta L'ha venduto Al prezzo che voleva Copmeners Mentre il Napoli Ha dovuto darlo In prestito secco Al Galatasaray Sperando che Si Riesca A Insomma A rivalutare Un attimo E per poi venderlo Forse a 80 milioni Come clausola nuova Che hanno messo Che è molto più bassa Rispetto alle aspettative Che avevano Di cessione Quindi chiaro Che la gestione Per come si era messo Per come si era messa La situazione È positiva Però Chiaramente Il Il problema Proprio Già dall'anno scorso Secondo me Era stato gestito male Quindi Quindi questo è un po' La situazione Cioè il Napoli Si è privato Di uno dei suoi migliori giocatori Senza guadagnare nulla Al momento E Questo è un problema E Allora Vabbè però Anche se non lo era Anche se non Era pubblicamente Comunque Cioè Era chiara La situazione Quindi È stata resa pubblica Da Gasperini Quindi Sì Giovanni Sono d'accordo Però 11 milioni Gli ha dato il Napoli Con rinnovo Quindi Anche quello È un errore Poi è chiaro Che tu dici Se non lo rinnovi Lo perdi a zero Però Allora dovevi agire Ancora prima Torniamo ancora più indietro È tutta una serie Di errori Uno dietro l'altro È problematica È un po' effetto domino Di gestioni precedenti Anche Perché poi anche Giuntoli Avrà le sue responsabilità Chiaramente Perché l'ha gestito Prima in precedenza Lui Eccetera eccetera Cioè Cosimene è da tanti anni Che ha il Napoli Quindi andava pensato Prima magari un rinnovo Sono tutte Tutte problematiche piccole Che poi scatenano Pieno a pieno La valangra Si potrebbe dire Che poi Un senno di poi Sono piene le fosse Chiaramente Però Si potrebbe dire Che il Napoli Doveva fare Queste operazioni Non appena aveva vinto Il campionato Evitare di rinnovare Osimene Venderlo Ci avrebbe guadagnato Quantità inconsiderevoli Di denaro Avrebbe dovuto Rifondare Da lì in poi Allenatore compreso Probabilmente Però Tuttavia Tuttavia Esatto Se posso aggiungere Se posso aggiungere Diciamo L'anno scorso Dove appunto Si era Già presentata Questa Idea Diciamo Di possibile Partenza Di Osimene L'anno scorso Si è provato A fare Diciamo Ovviamente Non è finita bene Per i motivi Che sappiamo Si è provato A fare Diciamo Uno statement Secondo me Una dichiarazione Di intenti Per dire Ecco Il Napoli Vuole provare Ad aprire Un ciclo Vabbè Sono parole Invecchiate Malissimo Però insomma Sto provando A capire Che cosa Intendesse Il presidente E appunto Rinnovando Osimene A quelle cifre Facendolo diventare Uno dei calciatori Più pagati Della serie A Diciamo Con l'obiettivo Di Uscire Dalla Dalla Nomea Dalla mentalità Di Reselling Club Che storicamente Sei stato Con i vari Cavani Iguain Lavezzi E compagnia Bella Per cercare Di affermarti In pianta stabile Come contendente Seria Per lo scudetto Però appunto Se l'anno scorso Si fosse venduto Osimene Evitando tutta La diritera Di quest'estate E incassando Ovviamente Molti più soldi De Laurenti Sarebbe stato Sommerso Di critiche Sarebbe stato Perché avrebbe fatto Appunto Il solito La solita mossa Che fa ogni Che ha fatto Già appunto Con i suoi top Attaccanti Dopo che Dopo che hanno Hanno avuto La stagione Della vita In più Io vedo La questione Di Di Osimene Per come È finita Per certi versi Simile Alla Alla questione Chiesa Juve Perché Solo Con Con la differenza Che Il Napoli Piuttosto Che Piuttosto Che scendere A compromessi Pur di vendere Osimene Pur di fare Cassa Ha tenuto Il pugno E ha detto No Noi siamo Di quest'idea Tu devi Noi vogliamo Questa somma Di denaro Altrimenti Hai un contratto Rimani qua E appunto Sia Sia Osimene Che Chiesa Erano Già Stati Detti Fuori dal Progetto Perché Se dici Voglio Lukaku Punto Ad avere Lukaku Metti Inevitabilmente Osimene Fuori dal Tuo Progetto Tecnico Sì Sì Insomma Poi Il discorso Su Chiesa Magari Poi Nei prossimi Giorni Ne parleremo Proprio Una gestione Tutt'altro Che positiva Poi è chiaro Che è facile Scaricare Le colpe sui giocatori Ma è la società Quando i giocatori Si comportano male Doverli gestire bene Quindi anche lì La Juve Ha sbagliato Eccetera Eccetera In futuro In realtà Che poi significa Anche magari Già dall'anno prossimo Esagerando Tra due stagioni Insomma Con Lukaku Comunque C'è Il rischio Più o meno concreto Comunque Sanno me Da considerare È di Cioè Quello di Poterti trovare Di fronte Ad una situazione Ad uno Osimene 2.0 Perché comunque Lukaku Tu hai un investimento Che fai Sapendo che hai Conte in panchina Sapendo che hai Conte in panchina Con Conte Lukaku Cioè Il rendimento È garantito Poi è chiaro Che non ci aspettiamo Il Lukaku Magari per un discorso Anagrafico Così devastante Come quello di tanti anni fa Però io mi aspetto Una grande stagione Da Lukaku Secondo me Potenzialmente Da capo Guandoniere Giocando una partita A settimana E stando Senza infortuni Senza infortuni Diciamo Più o meno Seri Che possono Tenerlo lontano Dai campi Per qualche Per un mesetto Insomma Per qualche settimana Il discorso è che Con Conte Anche Conte È una variabile Impazzita Notevole De Laurentiis Chiaramente Lo sapeva benissimo Nel momento in cui L'ha scelto Però Se De Laurentiis Sceglie Conte Sceglie per lanciare Un messaggio Alla piazza Sceglie Lukaku Significa che De Laurentiis In primis Dopo aver vinto Il campionato Si è reso contro Gli errori Che ha commesso La scorsa stagione E vuole riportare Il Napoli Comunque a livelli Più alti Nel miglior tempo Possibile Quindi Non c'è spazio Per un altro progetto A lungo termine Anche perché Secondo me Nella testa De Laurentiis Anche Sempre qui Per un discorso Di età Non lo so L'idea di poter cedere La società Tra qualche anno È concreta Quindi Il fatto di Cioè Poterlo Poterlo fare Con un Napoli Comunque di nuovo Ai livelli Comunque alti È sicuramente Un fattore Da considerare Il discorso è che Magari Non in questa stagione Conte alla fine Comunque ha avuto Lukaku E bene o male Si stabilizzerà Giocando solo il campionato Anche per questo Io mi aspetto Che Conte incida In questa stagione Molto più che nella successiva Quindi il Napoli Tra le prime quattro Deve arrivarci Per me Anche per il mercato Che ha fatto Però dalla prossima stagione Con il doppio impegno Diciamo che diventa Tutto un po' Secondo me Meno stabile E quindi Rischi di trovarti Poi magari Lukaku Sul gruppone Nel momento in cui Magari con Conte Le cose Come poi è successo Anche nelle esperienze precedenti Della sua carriera E quindi Un conto puoi Avere Usimen Con il quale puoi monetizzare Anche se poi Non ci sei riuscito E un conto Avere Lukaku E che magari poi Nel caso in cui Le cose con Conte Dovessero Dovessero peggiorare Lo ritrovi sul gruppone Senza Sapere poi Come Come cederlo A chi cederlo Quindi In proiezione Secondo me Le cose Devono andare Devono girare Nel verso giusto Perché poi Nel breve termine In realtà Tu hai preso L'attaccante migliore Che potevi prendere Mi piace dirlo Ma è così E anche l'allenatore Migliore che potevi prendere Però poi Alla lunga C'è da capire Insomma Le cose devono andare Proprio bene Al cento per cento Certo Ma per questo Infatti Ma infatti Per una parte Un lean Sì Esatto Più o ne meno Questo vi dico Che è un obbligo Per il Napoli Andare in Champions Quest'anno Cioè Che è un obiettivo Molto importante E Secondo me Ha il potenziale Più di molte altre squadre Cioè È tra le prime quattro squadre Per tutti i fattori Da considerare Del campionato Cioè Livello della Rosa Allenatore E Il fatto che non abbia le coppe Il Napoli Può E anzi Deve arrivare Tra le prime quattro E secondo me Può farlo tranquillamente Anzi Secondo me Cioè Credo Come pronostico Penso che ci riuscirà Poi magari Nei prossimi giorni Faremo anche Una live di pronostici Eccetera Però io la vedo La vedo davanti Alla Roma Ad esempio Alla Lazio Cioè Quindi Quindi questo E Quindi Insomma Sono d'accordo con te L'ultima cosa che dico È che Bisogna vedere Come tutte queste operazioni Poi Abbiano impattato Sul bilancio del Napoli E lo vedremo Insomma Quando Quando ci saranno Da fare i conti Perché comunque Il Napoli È una società virtuosa Da questo punto di vista Un esempio In Italia Per come si lavora È stato Almeno fino a Qualche anno Fino all'anno scorso Un esempio Per come si lavora Da questo punto di vista E anzi Se si è potuta permettere Questa cosa Di Perdere Tra virgolette Per il momento Graduitamente Daro in prestito Simen E prendere Un'altra attaccante Così pesante A livello economico È proprio perché Ha fatto un lavoro Molto positivo Negli anni precedenti Cioè se non avesse fatto Quel lavoro lì Cioè Quest'operazione qui La Juve L'Inter Non si sarebbero mai Potute permettere Economicamente Cioè probabilmente Avrebbero rischiato Di finire Gambe all'aria Però non vorrei Che venisse compromesso Tutto l'ottimo lavoro Che è stato fatto negli anni Per accontentare Conte Era questo Anche la cosa Che un po' Mi faceva storcere il naso Quando è stato preso Conte Dal Napoli Però vediamo Magari invece Riescono a far quadrare I conti in qualche modo E rimane positivo La cosa Speriamo bene Perché comunque Insomma Era uno Dei capisaldi Del Napoli L'essere Messi bene Da quel punto di vista Per cui speriamo Detto questo Chiediamo con la domanda finale Io Mi espongo subito Dicendo Di sì Ancora prima di aver detto La domanda Il Napoli è più forte Rispetto all'anno scorso? Per me L'obiettivo era proprio quello Quindi sì Il Napoli è più forte Del decimo posto Speriamo Vabbè Quello È indipendente Dalla tua forza Perché il Napoli L'anno scorso Non era da decimo posto C'è arrivato Per una serie di motivi Al decimo posto E Quindi Sendo d'accordo tutti Sul fatto che si sia Inforzata Quindi Abbiamo approvato Abbiamo visto Nel dettaglio Qualche problematica Ma tendenzialmente È un mercato Più che positivo Comunque Il Napoli Che si è rinforzato E che potrà ambire Alla Champions Senza problemi Ma secondo voi Prima ce lo chiedevano Mi pare Ho visto in chat Ma Invece Rafa Marin Sarà un Nathan 2.0 Oppure Oppure Alla lunga Personalissima O diventa Il nuovo Alessandro Bastoni O non vede il campo Tutta stagione Con Antonio Conte Le opzioni Non c'è via di mezzo Sì 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 Non c'è Non c'è Questa cosa di Nathan Che gioca qualche partita Dici bravo Poi fa scarso Poi invece bravo Di nuovo Non esiste Questa cosa qua E poi Piccolo inciso Avrei tenuto Nathan E non Juan Jesus Ovviamente Ovviamente Sì sì Anche questo Chiaramente Altro errore Che secondo me È stato fatto Infatti mi dispiace Un po' per Nathan Perché comunque Quando ha giocato Non ha fatto male Anzi forse È stato il miglior difensore Del Napoli L'anno scorso Quindi Per quel pochissimo Tempo che ha giocato Considerando che Comunque l'anno scorso Avrebbe fatto male Anche Anche Rodri Adattato centrale A Napoli Avrebbe fatto male Chiunque Io una seconda chance L'avrei dato I fattori psicologici È andato Tutto male Tutto quello Abbiamo scaricato Tutto Si spera Tutto il karma Negativo Dello studetto Come dire Se vogliamo Porla in questi termini Io avrei rescisso Il contratto A Juan Jesus Se avrei tenuto Nathan Cioè secondo me A Juan Jesus È chiaro Che è difficile Venderlo Se nel momento In cui non è Un acquirente Rescindì il contratto Secondo me E tini Nathan Comunque A livello numerico Ci stava Un contratto Rescisso Avrebbe vantato Una carriera In Italia Tra Inter Roma E Napoli C'è una cosa Giocatori 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 Che sognare E niente Questa cosa Assoluta Assoluta